Amici di Motorbox, buongiorno e bentornati a un nuovo appuntamento con la nostra nuova rassegna Motor Talk, una serie di incontri con i costruttori auto oltre che con i loro personaggi chiave, incontri attraverso i quali a un anno abbondante ormai dallo scoppio della pandemia di coronavirus intendiamo fare il punto su quale sia la situazione del mercato dell'auto, in particolare quale sia il rapporto che si è stabilito tra i marchi stessi e il proprio pubblico. Tratteremo anche un altro tema che è sulla bocca di tutti come quello dell'elettrificazione, quale sia il grado di familiarità che gli italiani hanno maturato con questa nuova tecnologia. Oggi ospite di Motor Talk è il direttore di Skoda Italia, Francesco Cimmino. Buongiorno Francesco e grazie di essere con noi. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti coloro che ci ascolteranno e grazie per l'invito. Ecco Francesco entriamo subito nel vivo della nostra chiacchierata e ti chiedo molto semplicemente come è cambiato negli ultimi 12 mesi il modo di vendere automobile o comunque di avvicinare il cliente al marchio Skoda. Allora sicuramente la pandemia ormai da un anno a questa parte ha cambiato completamente il modo di lavorare dei nostri concessionari, a parte che ha cambiato nello specifico della nostra attività è evidente che abbiamo dovuto apporre degli accorgimenti al fine di tutelare da un lato la salute delle nostre persone che lavorano nell'organizzazione e dall'altra parte ovviamente i clienti. Quindi è inevitabile che a seguito delle restrizioni abbiamo dovuto fare degli interventi piuttosto importanti, in particolare sul processo di vendita che chiaramente si è trasformato da un processo che era prevalentemente fisico o se vogliamo in una fase preliminare, la fase di prevendita era diciamo online ma mentre la parte più propria dell'attività era fisica quindi i clienti si regavano in concessionaria ad un processo che è diventato invece chiamiamolo ancora ibrido ma sostanzialmente digitale. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che noi a far data diciamo dal credo maggio dell'anno scorso quindi dalla fine del lockdown abbiamo implementato una serie di modifiche al nostro percorso di approntamento nei confronti del cliente. Lo abbiamo fatto sia per la parte vendita che la parte post vendita ma se ci vogliamo concentrare di più sulla parte vendita diciamo che fondamentalmente noi abbiamo fornito ai nostri concessionari innanzitutto una serie di strumenti che potessero utilizzare in maniera molto precisa, cioè vale a dire ad esempio dei filmati di prodotto per ogni singolo modello che potessero descrivere quali erano le caratteristiche salienti dei nostri prodotti. Questo al fine di soddisfare quella che è la normale presentazione del prodotto in concessionaria e soprattutto per risolvere alcuni dubbi che i nostri clienti avevano ovviamente nella fase di acquisto. Come lei ben sa, dinanzi a un processo di acquisto il cliente prima si informa diciamo autonomamente, poi prende contatto con l'organizzazione di vendita e a quel punto cerca una serie di, mi faccio dire, di informazioni più specifiche o dettagli sulle caratteristiche del prodotto. Grazie a questi video il cliente può prendere contatto con la concessionaria in un modo molto semplice attraverso il sito web della concessionaria, lasciare il proprio contatto, essere ricontattato e mi faccio dire tra virgolette chattare direttamente con il venditore. Chattare per modo di dire nel senso che in realtà è una vera e propria trattativa che avviene però a distanza. A quel punto in maniera riservata esclusivamente per il cliente viene inviato un link con il video del prodotto di riferimento in modo tale che il cliente possa familiarizzare con questo prodotto e dopodiché si procede online a una vera e propria trattativa online, nel senso che viene fatto sharing anche della configurazione di prodotto e quindi viene configurato il prodotto direttamente online, dopodiché si procede alla parte finanziaria e tutto quello che diventa necessario. Stiamo implementando anche la firma digitale in modo tale da poter sottoscrivere il contratto a distanza, ma nella fase immediatamente dopo il lockdown abbiamo provveduto comunque a fissare degli appuntamenti in massima sicurezza per i nostri clienti in modo tale da avere anche poi un contatto fisico con la vettura soprattutto per coloro che non conoscevano il prodotto nella sua dimensione reale, perché come lei ben sa online chiaramente uno riesce ad avere un'idea di come è fatto il prodotto ma poi fisicamente ha bisogno di toccarlo. Quindi questa diciamo che è stata una delle principali evoluzioni che abbiamo dovuto in implementare la nostra rete, quindi abbiamo dovuto fare della formazione ad hoc, abbiamo dovuto chiaramente mettere a disposizione questi strumenti. Inoltre il venditore ha a disposizione attraverso un altro sistema che gli abbiamo messo a disposizione, ha la possibilità di fare dei micro video per close upare, mi faccia dire così, dei dettagli della vettura che possono essere interessanti. Faccio un esempio su tutti, se un cliente vuole scegliere tra un tipo di cerchio piuttosto che un altro o vuole avere un dettaglio più specifico su un optional che magari non ha compreso nella sua interezza, il venditore può filmare attraverso un sistema di webcam, memorizzare questo video e mandarlo al cliente per la sua più chiara spiegazione. Ecco, come ha reagito il pubblico di fronte a questi nuovi strumenti? Quale feedback vi ha restituito? Guardi, noi non abbiamo sicuramente fatto un survey per verificare il livello di soddisfazione dei nostri clienti, ma se guardo ai fatti, cioè ai risultati che abbiamo consultivato l'anno scorso, devo dire che è andata molto bene, perché noi siamo uno dei brand che rispetto a un mercato che ha fatto quasi un meno 29%, noi abbiamo fatto un meno 7%, siamo il brand che ha fatto meglio l'anno scorso rispetto al 2019, è evidente che questo tipo di approccio sicuramente ci ha aiutato molto. Come dicevo prima, lo abbiamo fatto anche nell'ambito after sales, perché chiaramente tutelare la sicurezza dei nostri collaboratori e dei clienti è fondamentale e quindi abbiamo dovuto implementare anche una serie di processi di igienizzazione supplementari nel momento in cui il cliente si recava presso la concessionaria anche per la parte di assistenza, quindi l'insieme di tutte queste attività ci ha dato da un lato dei buoni risultati dal punto di vista delle vendite, anzi degli ottimi risultati nel senso della tenuta, considerando quello che è successo l'anno scorso e dall'altra parte abbiamo anche dei livelli di soddisfazione della rete in ambito sales e after sales che sono comunque rimarchevoli da questo punto di vista. Feedback propri sul processo digitale in realtà non ne abbiamo avuti. Ecco, come dicevamo prima, un altro tema di massima attualità è proprio quello dell'elettrificazione, di un mercato che a poco a poco tenta di affrancarsi dai carburanti tradizionali per sposare il paradigma del 100% elettrico, questo per gradi ovviamente. Skoda ha già portafoglio alcuni modelli parzialmente elettrificati, mi riferisco a Skoda Superb, plug-in, ma soprattutto la nuova Skoda Octavia plug-in hybrid. Ecco, in attesa di una futura ipotetica svolta 100% elettrica, qual è il margine di sviluppo per le motorizzazioni ibride? La transizione verso l'elettrico è ovviamente abbiata, è un percorso che non ha sicuramente battute d'arresto, ma la velocità di trasferimento per la maggior parte dei clienti dall'acquisto di una vettura tradizionale ad una vettura elettrica sarà in funzione sicuramente degli incentivi governativi messi a disposizione e prevalentemente delle infrastrutture di ricarica, che rappresentano oggi, diciamo, l'ansia di autonomia, rappresenta oggi una delle principali ragioni di non acquisto del prodotto elettrico. È chiaro che finché non arriveramo a questo punto, la transizione sarà una transizione che vedrà un passaggio graduale tra le motorizzazioni tradizionali e quelle più innovative. In questa fase di transizione, diciamo che oggi nella testa dei consumatori il concetto di elettrico o di ibrido è un concetto non così chiaro, nel senso che la demonizzazione del diesel è una cosa certa, che è stata ampiamente stimolata da parte dei principali media, ma anche delle istituzioni, mentre dall'altra parte una chiara consapevolezza di quanto l'ibrido sia effettivamente ecosostenibile e soprattutto efficace dal punto di vista del miglioramento della situazione climatica non è così completamente chiaro. È talmente vero quello che dico che noi vediamo un crescere importante negli ultimi mesi di vendite di vetture ibridizzate che hanno di ibrido veramente talvolta ben poco, nel senso si tratta di i cosiddetti mild hybrid, nel mondo degli ibridi ci sono i mild hybrid, i full hybrid e i plug in hybrid e quindi diciamo che questa distinzione nella testa del consumatore non è così chiara. Qual è però la chiave di lettura? La chiave di lettura è che per i clienti avere oggi un ibrido rappresenta una serie di vantaggi, i principali sono legati ai blocchi della circolazione nelle aree urbane, la seconda è legata al fatto che ci sono degli incentivi governativi o regionali come dire che migliorano il prezzo di acquisto della vettura e dall'altra parte anche un senso di appagamento per sentirsi in qualche modo alla moda, ma la vera vettura a basse emissioni di fatto è la vettura puramente elettrica ed è questa la direzione in cui il brand si sta muovendo, ma diciamo così l'intero gruppo si sta muovendo in quella direzione. Noi come parte integrante del gruppo Volkswagen chiaramente abbiamo questa transizione che avrà un tempo di attraversamento che come diciamo prima è funzione un po' della della crescita della gamma di infrastrutture di ricarica. Certo, i costruttori fanno la propria parte, poi chiaramente i governi, l'ecosistema intero, tutti devono camminare di pari passo. Per quanto riguarda Skoda, come diceva lei prima abbiamo lanciato due versioni plug-in hybrid sulla Superb prima e sulla Octavia adesso e ci stiamo accingendo a lanciare il primo SUV interamente elettrico della marca Skoda che è il cosiddetto ENIAC con una piattaforma completamente nuova, è un primo prodotto nativo elettrico quindi nasce su una piattaforma elettrica e quindi con tutti i vantaggi di questa piattaforma che sono da un lato sicuramente il peso ma soprattutto i ridotti limiti di costruzione della piattaforma per cui per fare un esempio su tutti, queste nuove vetture non hanno il cosiddetto tunnel centrale e quindi danno la possibilità al cliente di avere una percezione di spazio all'interno molto più ampio di quello che in realtà è, una fruibilità del mezzo a 360 gradi e quindi una percezione assoluta di comfort enorme. Quindi noi entriamo con il primo SUV elettrico che è chiaramente una vettura di 4 metri e 60 quindi è una vettura che sicuramente dal punto di vista della dimensione non è per una fruibilità tipicamente urbana ma è sicuramente per noi un momento importante che rappresenta veramente un cambio di direzione per la marca che è una caratteristica notevole. Inoltre avendo noi realizzato una vettura che ha una caratteristica diciamo molto simile a un SUV normale quindi fa sentire secondo il nostro punto di vista vuoi per la bellezza del prodotto vuoi per le caratteristiche all'avanguardia dei contenuti tecnologici una vettura elettrica molto più simile a una vettura di quelle tradizionali e quindi noi siamo convinti che questo sarà una non solo una pietra miliare ma sarà anche un grande acceleratore per quanto riguarda il nostro marchio. Per tornare alla sua domanda relativamente invece le motorizzazioni diesel noi abbiamo già effettuato una scelta molto importante eliminando le motorizzazioni diesel dalle vetture diciamo più compatte quindi l'attuale fabia non presenta più questa motorizzazione della scala il camic non hanno più le versioni diesel mentre abbiamo riservato al momento ancora delle offerte chiaramente rigorosamente euro 6d con un abbattimento con un abbattimento dell'80 per cento delle emissioni di NOx quindi all'avanguardia diciamo della della tecnologia e soprattutto vetture assolutamente ecologiche ma abbiamo lasciato queste motorizzazioni solo sull'alto di gamma per rispondere a quella domanda dei cosiddetti grandi camminatori o comunque di coloro che fanno molti chilometri l'anno e che ancora oggi per questioni di infrastrutture vedono nel nel prodotto diesel un prodotto molto più fruibile e soprattutto molto più economico dal punto di vista del total cost of ownership quindi dal punto di vista della 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 propria gestione bene ringraziamo francesco cimmino direttore di scoda italia per essere stato con noi per avere condiviso con noi tutte queste riflessioni e per averci dato tante informazioni utili io vi do appuntamento alla prossima puntata di motor talk ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti